Salve caro! Salve! Lei deve essere il signor Tempo, certo, molto lieto riconosce. Anche quest'anno Bibbiena Città del Teatro non poteva mancare l'organizzazione di una rassegna teatrale per gruppi amatoriali. È la terza edizione e grazie all'amministrazione comunale, al Comitato Sociocoppe di Bibbiena, la filodrammarica bibbianese ha potuto organizzare questa rassegna. È sempre impostata sulle sei compagnie in concorso, più la chiusura finale della compagnia di casa, la filodrammarica bibbianese, ovviamente fuori concorso. Quest'anno abbiamo avuto delle visioni maggiori rispetto all'anno precedente, con due compagnie nuove che partecipano alla rassegna. Quindi abbiamo stabilito in modo molto semplice di fare un turnover tra chi ha partecipato gli anni passati e chi giustamente per la prima volta parteciperà l'anno prossimo e lasciare poi il posto successivamente negli anni. Siamo già alla quarta serata, direi che è sicuramente un gran successo, siamo molto soddisfatti della partecipazione del pubblico. Proseguiremo la nostra rassegna poi con il 25 di aprile, anche se è un giorno di festa. La compagnia di San Giovanni Valdarno, qui presente stasera con noi, hanno scelto questo giorno. Quindi a noi è stato anche gradito perché sembrava che dovesse saltare un altro momento della rassegna, invece loro sono stati così disponibili. L'hanno scelto proprio volutamente e quindi ci consentono di fare questa serata.